Gianni Medina Revisore-Porto Buonasera. Sono qui perché ho seguito il mio cuore. Venti mesi fa ero a Toronto, dove un mio amico, un ingegnere strutturale, che ha costruito quello edificio, l'ha messo un libro in mano. L'ho letto. Era del suo architetto preferito. Allora l'ho letto due volte. Mi sono innamorato e ho lasciato tutto per venire qui a Firenze con la certezza di scrivere una sceneggiatura. Sono venuto a Firenze per capire meglio il passato, ma quello che ho trovato ha grande rivelanza al nostro futuro collettivo. La storia di una città, il genio Filippo Brunelleschi e la sua cupola meravigliosa. Forse anche ho trovato un nuovo secreto della cupola. La cupola di Brunelleschi era ricca di tecnologia. Era infatti l'internet del Rinascimento. Le statistiche della cupola fanno impressione. 29.000 tonnellate di pietra, di mattone, di legno, creato senza computer, senza leccesità, solo con il cervello, con i mani e con filo e piombo. Esistevano grandissimi problemi. Come fare a sollevare mille tonnellate di pietra a un cantiere alto di 66 metri? Me l'hanno fatto e l'hanno fatto tutto. E vi dico questo, la cupola di Brunelleschi era molto di più. Era un cantiere vivo, pieno di idee, di filosofia, di matematica e scienza. E all'inizio la cupola di Brunelleschi era un concetto, doveva essere inventata come l'internet doveva essere inventata. L'internet non esiste senza fili di telefono, computer, modem e roba del genere. E per costruire la cupola Filippo Brunelleschi ha inventato macchine, calce e il metodo di lavorare. E che è successo? Dopo 25 anni tutte le idee, il lavoro che è messo dentro la cupola hanno dato a un altro il prossimo generale. Cervelli come Michelangelo e Leonardo da Vinci. È una cosa strana. Senza tutte le opere risolti da Brunelleschi sulla cupola, Michelangelo non aveva le basi per le sue opere. La cupola, come l'internet, ha portato avanti informazione per la prossima generazione. E dopo 25 anni dell'internet, io oggi come regista ho nelle mie mani cine riprese digitale. Suono, editing, final cut, è il metodo di portare le mie storie a tutto il mondo. C'è un'altra cosa molto importante. Grandi idee come la cupola hanno stimolato una grande collaborazione. La città di Firenze ha riunito i suoi migliori cittadini, uomini d'affari, artigiani, gente che lavoravano con le mani e hanno fatto due domande. E se non noi, chi? Vi domando, si può immaginare la città di Firenze senza la cupola al centro del suo cuore? La palla e la croce sono diventate fari universali per tutto il mondo, per il pensiero, per la democrazia. E ora siamo all'inizio di una nuova epoca. La gente guardano l'internet anziché leggerlo. I nostri bambini imparano a vedere e poi fare, come gli artigiani umanisti dell'epoca. Io credo che la tecnologia è la cosa perché noi viviamo. È importante come l'amore, come la cittadinanza e come la vita sociale. Questo uomo mi ha dato grande ispirazione. Quando ha iniziato il progetto della cupola, aveva 42 anni, come me, ora, e non ha ancora iniziato il suo capolavoro, una cosa che nessuno voleva fare. Guarda, il mio film non potrà mai, 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 mai superare l'immensità della cupola. Ma forse posso, davanti al mondo, onorare questo figlio fiorentino, un genio che ha portato grande fortuna a questa bellissima città. Viva Firenze e viva Filippo Brunelleschi. Grazie. Grazie.